Il sentimento è sempre positivo, questo è un momento giusto nel senso che siamo di fronte ai primi trimestri dell'anno e di fronte all'inizio di un nuovo anno. I dati ci danno un internet in costante crescita, per l'anno prossimo noi come IAU prevediamo almeno un 17% e questi sono dati interni nostri che sono una media di una serie di ricerche tra cui anche quella di IABI, quindi euforismo c'è perché il settore non sta andando bene così su tutti i mezzi, come internet soprattutto sta crescendo molto il video, il video è il formato che cresce di più, circa il 70% anno su anno e i dati che noi abbiamo ci danno interviste fatte nel mondo italiano di chi si occupa di media, il video come il formato numero uno entro il 2015 proprio per investimenti pubblicitari. IAU sta andando molto bene, come azienda quotata in borsa non possiamo dare dati precisi puntuali di ogni singola country, quello che posso dirvi è che il mercato sta crescendo del 17% quest'anno, tipicamente noi abbiamo obiettivi che sono del doppio e stiamo andando addirittura oltre, quindi molto bene ma questo è grazie a tutta una serie di prodotti pubblicitari, non ultimo il video ma anche il motore di ricerca, il direct response, il behavioral targeting, tutta una serie di strumenti pubblicitari unici e il fatto che abbiamo un audience che cresce più o meno del triplo rispetto al mercato. Quello che abbiamo presentato è un nuovo modo, una concezione diversa se vogliamo di concepire il video online, abbiamo fatto molte ricerche sia in Europa che negli Stati Uniti e l'idea è quella di lavorare su un nuovo format video che è quello di contenuti originali e contenuti professionali, quindi noi già a dicembre abbiamo chiuso l'area di user generated content in Yahoo, è un'area in cui non crediamo come editore, quindi creiamo invece video professionali originali di alta qualità e un'altra cosa, abbiamo creato un video network molto potente di cui vivo che è il canale musicale più visto al mondo, circa fa il 40% del traffico su YouTube perché è un canale che dentro anche YouTube è parte della nostra offerta commerciale per i video, oltre a Dailymotion e altri partner importanti, quindi diciamo è l'anno del video per noi.